È veramente bellissimo perché non ce l'aspettavamo, perché l'abbiamo sofferto fino alla fine, affrontando fra quarti, semifinali e finale dei veri e propri colossi che sembravano superiori a noi e che non lo sono stati. È bellissimo soprattutto perché io credo che questo sia forse il trionfo simbolicamente più importante dell'era moderna del calcio italiano. Pensiamoci bene, i mondiali dell'82 e del 2006 sono stati successi di reazione a delle situazioni che ci avevano messo spalle al muro. Nell'82 era una nazionale contestatissima, nel 2006 lo scandalo di Calciopoli. Questo del 2021 è invece un successo pieno di rivoluzione e di costruzione. Il trionfo di un gruppo plasmato, inventato da un uomo. Un uomo che ha fatto una delle cose più importanti che si hanno mai viste nel nostro movimento calcistico. E quest'uomo è Roberto Mancini, che ha avuto la forza, la visione e il coraggio di spazzare via tutte quelle resistenze retrograde e morbose che ci avevano portato a non partecipare nemmeno all'ultimo mondiale. Lo ha fatto fin da subito, imponendo le proprie idee, con convocazioni. Ricordate il nome di Zaniolo, lo sconosciuto Zaniolo a tutti, tranne che a lui, nella prima lista, che hanno fatto discutere dall'inizio alla fine. Lo ha fatto vincendo, irrimediabilmente, fin dalla prima partita. Ma dicevano che erano partitelle, come se dal mondiale ci avesse escluso il Brasile e non la Svezia. Quando si vince, guidano una nazionale, è sempre importante. Lo ha fatto progredendo costantemente, impiantando una mentalità nuova, rompendo le catene di certi pensieri che frenavano lo sviluppo del calcio, proiettando tutto il movimento nella modernità e ingoiando anche qualche rospo. Perché non più tardi di un anno fa la federazione aveva deciso di affiancargli Lippi come direttore tecnico, senza dirgli nulla, e si è rischiato un patatrack al quale forse è meglio non pensare, ma un pochino sì. Lo ha fatto arrivando a Wembley con una vera e propria famiglia. La famiglia di un gruppo che ha convinto con la forza della sua visione, che ha portato ad andare oltre i propri limiti, e soprattutto con la famiglia di una nazione che simbolicamente prende questo trionfo, veramente come la certificazione di una rinascita, di un ritorno alla vita, ma che attorno a questa nazionale sia stretta, perché questa nazionale vinceva e i risultati creano consenso, ma soprattutto perché questa nazionale riempiva, dava soddisfazione, risultava bella, e la bellezza appunto unisce. Il consenso può scemare da un giorno con l'altro, l'unione invece, come si suol dire, fa la forza. E la famiglia che Roberto Mancini ha creato si è concretizzata anche proprio nell'immagine conclusiva della serata di Wembley. Wembley, lo stadio in cui Mancini aveva subito la più dolorosa e cocente sconfitta della sua carriera di allenatore, quella nella finale di Coppa dei Campioni, persa all'ultimo pallone contro il Barcellona. Al suo fianco c'era Gianluca Vialli. Gianluca Vialli era ancora lì, con altri compagni di quella Sampdoria, e fra le braccia di Gianluca Vialli Mancini ha regalato le prime e forse uniche lacrime di questa avventura, proprio per il senso di famiglia, il senso di condivisione, il senso di libertà. Adesso ci godiamo questo trionfo, ma soprattutto adesso dobbiamo guardare alla concretezza della realtà di questo sogno diventato una cosa vera. È stato un sogno realizzato con visione, con ingegno, con sudore, con lavoro, con determinazione. Ed è un sogno che va avanti, perché dopo questi festeggiamenti ci saranno la Final Four di Nations League, che si giocherà qua in Italia, ci sarà questo strano mondiale invernale fra un anno e mezzo. Questo è un trionfo che ci dà veramente una ventata di aria nuova dopo il periodo più difficile che la nostra generazione abbia affrontato, ma soprattutto il ringraziamento a Roberto Mancini va fatto perché ha dato tutta l'Italia del calcio e non solo una grande lezione.